Le pare normale che siamo in democrazia e ci sono dei partiti che decidono chi deve entrare e chi no in questo Consiglio regionale. Io non credo che sia una democrazia il Paese in cui i consiglieri regionali eletti dal popolo devono chiedere per favore di entrare nell'istituzione in cui sono eletti. Soprattutto se, questo è un tecnicismo, nel Burk di stamattina non c'è la sconvocazione del Consiglio regionale. Quindi stiamo dicendo che il Consiglio regionale è convocato ancora e non stanno facendo entrare i membri del Consiglio regionale. Io voglio sapere se questa regione si deve mettere in autogestione o possiamo avere ancora il diritto di avere un'aggiunta regionale e un Consiglio regionale. De Luca è stato il più grande errore di Matteo Renzi e il conto delle prossime elezioni a novembre, le prossime elezioni regionali, lo presentiamo direttamente a Matteo Renzi. I milioni di euro che serviranno per tornare alle elezioni, visto e considerato che se stamattina il Consiglio regionale si riunisce, prende atto che non ha un presidente di regione, De Luca, e deve tornare a votare secondo la maggior parte della dottrina che abbiamo interpellato.